ed eccoci qui terza e ultima partita di oggi altra sorpresa come dicevo prima chissà se la svizzera non faceva un'altra sorpresa infatti l'ha fatta 1 a 1 e palla al centro anche il brasile non riesce a vincere si conferma il mondiale delle sorprese questo secondo me comunque bellissimo il gol di cutinio che secondo me entrerà nella top 3 insieme con quello di la roba di r7 della top goal dei mondiali insomma il brasil ha fatto qualcosa ma la svizzera alla fine riesce a ottenere un bel pareggio ma domani ci aspetteranno altre partite c'è svezia corea del sud se non sbaglio tifo per infortuni mamma mia per chi c'era nel 2002 con la corea del sud capirà e soprattutto perché c'era novembre contro la svezia capirà porca troia appuntamento a domani quindi questa è una rapida solo per vedere risultato basta per giorni su risultato eccetera appuntamento a domani